Cos'è che non c'è nella buona scuola? Non si parla, no, nel modo più totale di ferie per gli studenti, chiamarle ferie è un po' forte, di giorni di vacanza. Non si parla di vacanza, è uno degli argomenti che più sui miei social network i ragazzi mi hanno detto tu stai distruggendo i nostri giorni di vacanza. Nella buona scuola non si parla di questo. Non ci sono presi di Rambo, i presi di Rambo esistono soltanto al cinema, se ci sono al cinema. E attenzione, questo è molto importante, non è vero che il preside assume l'amico dell'amico, non è vero che ci sono i licenziamenti dopo 36 mesi, sono assolute falsità. No licenziamenti dopo 36 mesi.